Domani i risparmiatori azzerati della vecchia Banca Etruria torneranno in strada per far sentire la propria voce. La Lega sarà nuovamente al fianco di questi risparmiatori, perché? Innanzitutto la Lega è stata sempre al fianco, bisogna ricordare che lo stesso ministro Salvini è venuto più volte qui ad Arezzo proprio per stigmatizzare il problema e quindi saremo sempre al fianco e noi stessi a livello locale staremo sempre vicini e soprattutto staremo attenti a quelle che sono le dinamiche che succederanno a Roma. Anche se bisogna ricordare che purtroppo questo governo che si è insediato da pochi mesi sta avendo tutta una serie di problemi dovuti al mal governo di chi ci ha preceduto e che ha lasciato tutta una serie di problemi, in primis naturalmente il governo Renzi. Bisogna ricordare che anche l'Europa non è che ci sta aiutando, si sta mettendo tutta una serie di problemi. Nonostante questo ci sono delle risorse che sono state destinate al ristoro di queste persone, anche naturalmente per quanto riguarda Banche Turia ma anche per quanto riguarda tutte le altre banche perché chiaramente va occupato nativamente tutte quelle che sono le problematiche a livello nazionale. Questo l'ha sottolineato naturalmente il sottosegretario Bitonci. Questa è una cosa importante perché dà un segnale positivo anche per il futuro. Risorse ce ne sono quindi si verranno destinate. E' logico che con tutte le problematiche magari ci vorrà un pochino di tempo però il segnale politico l'abbiamo dato direi è abbastanza anche importante. Va ricordato innanzitutto che anche domani ci sarà naturalmente dibattimento in tribunale e quindi è importante anche che emergano quelle che sono le responsabilità naturalmente che ci sono state. E questo direi è una cosa importante perché è giusto che ci sia giustizia anche per queste persone. Non solo quello che è il rimborso economico ma vedere naturalmente si sta muovendo anche sul lato della giustizia.